Premio di produttività per i dirigenti comunali, polemiche, bilancio commissariato, eppure questi soldi si sono trovati, accusa Mario Turturici. Replica Fabrizio Di Paola, atto dovuto, furviante, mettere sullo stesso piano cose così diverse. Fanno discutere le dimissioni dalla Commissione Attività Produttive di Bentivegne e Fallautano, maggioranza al capolinea e dicono oggi gruppi consigliari di opposizione e continua anche la polemica tra SEL e Movimento 5 Stelle. Sul ridimensionamento dell'ex condotta agraria di Ribera trasferita a Bivona, Carmelo Pace attacca Giovanni Pane Pinto. A Palermo hanno secondato i suoi capricci, proteste per il provvedimento anche da parte del mondo agricolo riberese. Anche la Guardia di Finanza di Agrigento ha celebrato oggi il 242esimo anniversario della Fondazione del Corpo, occasione servita a stelare un bilancio dell'attività svolta. Nel milione delle fiamme gialle non solo i reati tributari. E ormai tutto pronto per il Bieletteranno in festa. Oggi conferenza stampa di presentazione e gli eventi in programma da domani fino a domenica. Vogliamo promuovere la cultura sciacca abbracciando più generi, dice Sino Caracappa. Maturità dopo il tema di italiano di ieri, oggi è stata la giornata dedicata alla seconda prova, differente per indirizzo allo scientifico, matematica, al classico versione di greco, altrove prove su finanza, agraria, turismo, marketing e informatica. Un corriere saluto, ben trovati anche oggi ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Telemonte Cronio. In attesa di una proroga che non è ancora arrivata per l'approvazione del bilancio di previsione, il Presidente della Commissione Consigliare Bilancio e Finanze, Mario Turturici, rivela che nell'anno in cui non si riesce a chiudere il bilancio, l'amministrazione ha assegnato i premi di produzione riferiti all'anno 2013 ai dirigenti comunali. Un fatto che Turturici censura, ma il Sindaco replica, mette assieme due cose che non hanno nulla in comune. Il punto in questo servizio. Il Comune di Sciacca sta per essere commissariato perché non ha i soldi per chiudere il bilancio. I soldi per pagare i premi ai dirigenti però vengono trovati. E questo è il contenuto di un post sulla pagina Facebook dell'ex Sindaco Mario Turturici, oggi Presidente della Commissione Consigliare Finanze. E' lui a rivelare che l'amministrazione ha licenziato la retribuzione di risultato ai dirigenti comunali, una liquidazione di somme maturate nel 2012 e nel 2013, via libera a 59 mila euro, somma ripartita tra i responsabili dei sette settori. Sono fondi per i risultati raggiunti negli anni dell'aumento delle tasse, accusa più o meno ironicamente Mario Turturici, il quale poi preannuncia quella che definisce una dettagliata interrogazione sulla questione. Non è la prima volta che Mario Turturici si occupa dei dirigenti comunali e dei loro stipendi. In passato aveva chiesto che gli stessi sacrifici fatti dagli amministratori nella riduzione delle loro indennità li facessero anche gli stessi funzionari. Non ci sta però Fabrizio Di Paola. E' politicamente sbagliato e formalmente scorretto, dichiara il nostro telegiornale, mettere sullo stesso piano la questione delle somme maturate dai dirigenti comunali già quattro anni fa e quella riguardante le difficoltà nel chiudere il bilancio di previsione. Che a commettere questo errore poi sia Mario Turturici, che prima di me ha amministrato la città, è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Sindaco Di Paola, il quale poi evidenzia anche che i dirigenti avrebbero potuto mettere in mora il Comune e che invoca un superiore senso di responsabilità da parte di tutti per non dare all'opinione pubblica informazioni sbagliate. Se volessi fare polemica, conclude Fabrizio Di Paola, andrei a verificare quante volte al tempo del suo mandato l'allora Sindaco Turturici ha negato i dirigenti i riconoscimenti retributivi o quante volte si sia discostato dalle indicazioni tecniche dell'organismo di valutazione. Nel frattempo al Comune si attende ancora che lo Stato accordi la proroga all'approvazione del bilancio di previsione 2016, proroga attesa da settimane che però ancora non è arrivata e non pare trapelare alcun ottimismo neanche dal negoziato tra Ance e Governo centrale. Eppure è in questo quadro che la Regione ha annunciato il commissariamento degli enti locali proprio sugli strumenti finanziari. Superfluo dire che un bilancio che fosse predisposto da un funzionario regionale sarebbe un autentico spauracchio perché l'esigenza di far quadrare i conti alla fine non si può basare soltanto su una formula matematica ma anche su dinamiche politiche che però, allo stato delle cose, rischiano di essere accantonate. In soldoni il pericolo è che a pagare le conseguenze peggiori sia il welfare, settore già ampiamente danneggiato dai tagli ai trasferimenti che si sono succeduti nel corso degli anni e al quale non riesce più a far fronte alla stessa imposizione tributaria a livello locale. In queste ore si spera che il recente sblocco delle somme destinate alla Regione siciliana da parte del Governo centrale in attesa della loro disponibilità fisica nelle casse dei comuni possa indurre Palermo a sospendere l'invio dei commissari ad acta dando così più tempo ai sindaci di predisporre i rispettivi bilanci di previsione ancorché sull'onda di un'emergenza finanziaria infinita nella quale si inserisce anche il tema dei tributi. In un comune come Sciacca le aliquote non sono ancora al massimo ma quest'anno non possono essere aumentate tassa sui rifiuti per la quale si teme un autentico salasso che da queste parti potrebbe essere alimentato anche dall'ultima emergenza quella che ci obbliga a trasferire i rifiuti raccolti sul territorio presso la discarica di Catania. Insomma il rapporto tra comuni e enti superiori di Governo è fortemente squilibrato le municipalità faticano oltremodo a garantire i servizi minimi e essenziali e come risposta ottengono il commissariamento col pericolo che se davvero arrivasse un commissario il Consiglio Comunale sarebbe con le spalle al muro e non potrebbe discutere né bocciare eventualmente lo strumento finanziario pena addirittura il possibile scioglimento. Maggioranza al Capolini è questo l'atto di accusa dei gruppi consigliari di opposizione dopo le dimissioni dei consiglieri Bentivegni e Fallautano dalla Commissione Consigliare Attività Produttive il clima politico si allinea alle temperature estive nonostante manchi ancora un anno alle elezioni amministrative. Maria Genuarti Un'estate rovente non solo per le temperature è quella che si sta prospettando in anticipo di un anno rispetto all'appuntamento con le elezioni amministrative e la politica sacciense trova in questi giorni continui spunti di polemica e contrapposizione è l'ultimo assist all'opposizione arrivato dalle dimissioni dei consiglieri Pasquale Bentivegni e Filippo Fallautano dalla Commissione Consigliare Attività Produttive legate al fatto che tutti i suggerimenti o le proposte avanzate non verrebbero minimamente tenute in considerazione dell'amministrazione in particolare dell'assessore competente, il forzista Silvio Caracappa Uno scollamento tra consiglio e giunta ancora più rilevante nella misura in cui a sottolinearlo con le dimissioni sono stati proprio i due consiglieri che hanno sostenuto in questi quattro anni l'amministrazione di Paola e l'opposizione parla di maggioranza al capolinea e di storia di una crisi annunciata Il gesto e le dichiarazioni di Bentivegni a Fallautano per i gruppi consigliari del PD, Sciacca Democratica, Selle e per Elvira Frigerio non solo costituiscono il più grave dei jaccus ma denunciano ulteriormente la condizione di perenne arroganza di strutturale incapacità all'ascolto e al confronto da parte di amministratori che dicono evidentemente considerano un insulto e un'offesa a qualunque manifestazione di pensiero che oltrepassi la più servile obbedienza al sovrano Ma ciò che è accaduto ai due colleghi e storia di tutti i giorni aggiungono comune a tutti i consiglieri almeno a quelli che hanno scelto di non chinare il capo all'insopportabile arroganza di chi va dritto per la sua strada e dimostra disprezzo per le prerogative del Consiglio Dichiarazioni pesanti quelle dell'opposizione che si dice pronta a far emergere ed esplodere tutte le contraddizioni e i conflitti interni di una compagine che sarebbe tenuta in piedi sostengono solamente da logiche di potere e brame di assessorati Le stesse che secondo l'opposizione stanno spingendo l'amministrazione ad andare avanti facendo finta che nulla sia accaduto e che tutto vada bene in attesa che sia la città a staccare la spina Con questo atteggiamento aggiungono non si va lontano ma al contrario si determinano solamente disillusioni amarezze e prese di distanza Gruppi consigliari di opposizione che si candidano da parte loro a dare un'alternativa alla città e che hanno avviato dunque la campagna elettorale sta a noi dichiarano la responsabilità di restituire speranza e fiducia ai cittadini Nota delirante contenente offese personali sappiamo di non essere politicanti di mestiere mentre non sappiamo neanche chi siano i componenti della fantomatica assemblea del Movimento 5 Stelle di Sciacca e la controrreplica di oggi di Fabio Leonte e Paolo Mandracchia nei confronti dei grillini polemica destinata a proseguire Sentiamo Ormai è scontro aperto tra Fabio Leonte e Paolo Mandracchia da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altra Dopo la conferenza stampa di lunedì in cui hanno annunciato che saranno presenti alle amministrative del 2017 invitando i cittadini ad affidarsi a loro e non ai grillini questi ultimi hanno replicato accusando l'ex assessore e l'attuale consigliere comunale di essere rappresentanti di una politica vecchio stampo e oggi Mandracchia e Leonte tornano sul tema parlano di nota del Movimento 5 Stelle delirante e offensiva sul piano personale definiscono il documento firmato dalla fantomatica assemblea dei grillini l'ennesimo copia e incolla e ribattono non siamo noi la vecchia politica non siamo riciclati né siamo mai saliti sul caro del vincitore aspetto sul quale sostengono tanti grillini invece dovrebbero prestare maggiore attenzione visto che, tanto per dirne una gli stessi soggetti che hanno vinto le elezioni in comune della provincia di Agrigento altro non sono che infiltrati che provengono da precedenti esperienze politiche e peraltro non delle migliori ancora Leonte e Mandracchia rivendicano di essere stati nella loro storia politica sempre leali e coerenti pagandone pure prezzi non indifferenti definiscono offensiva la definizione politica anti di mestiere stante che la politica non è mai stata la loro fonte di sostentamento né diretta né indiretta l'accusa al Movimento 5 Stelle è di non avere cognizione del contesto in cui dovrebbero muoversi in caso di una loro vittoria alle prossime elezioni comunali Leonte e Mandracchia rivendicano di essere l'unica vera e coerente alternativa all'attuale schieramento politico mentre ai cittadini di Sciacca non può essere sfuggito in questi quattro anni il silenzio assordante del Movimento 5 Stelle sui temi più importanti della politica locale dalle terme al piano regolatore dall'ospedale alla questione dei rifiuti il punto vero concludono Leonte e Mandracchia che purtroppo non conosciamo i componenti di questa sorte di congrega che decide le sorti del Movimento 5 Stelle così come non possiamo parlare della loro storia e capacità politica ma prima o poi almeno ci auguriamo questo segreto sarà svelato e la polemica di certo non è finita qui oggi pomeriggio a Palermo l'atteso incontro tra l'assessore regionale al bilancio Alessandro Baccei e il sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola un incontro volto a fare il punto della situazione in merito all'avvertenza terme alla luce delle ultime novità che poi riguardano nella sostanza quello che dovrebbe essere un imminente avvio dei lavori del lascio fognario per lo stabilimento e il Grand Hotel ma Di Paola ha chiesto a Baccei di essere convocato anche per conoscere nel dettaglio l'orientamento del governo della regione in ordine al disegno di legge annunciato nelle settimane scorse consiglieri comunali di opposizione che potrebbe preludere ad un intervento di riacquisizione degli immobili termali nel patrimonio della regione nei nostri telegiornali di stasera vi forniremo aggiornamenti sull'esito di questo incontro il ridimensionamento dell'ex condotta grale di Ribera è un provvedimento assurdo da parte del governo regionale che altro scopo non ha se non quello di assecondare il capriccio di un parlamentare regionale il parlamentare in questione Giovanni Panepinto sindaco di Bivona e la dichiarazione destinata ad alimentare le polemiche del sindaco Carmelo Pace ma a protestare per il provvedimento sono anche i colleghi dei comuni limitrofi a Ribera i cui agricoltori per il disbrigo delle pratiche saranno ora costretti a recarsi appunto a Bivona sentiamo non va proprio giù al sindaco di Ribera Carmelo Pace la decisione assunta dal governo regionale di ridimensionare l'ufficio intercomunale l'agricoltura ex condotta agraria limitandone la competenza al territorio comunale un provvedimento assurdo per Pace che si spinge anche oltre è una decisione della regione incomprensibile ora non volendo togliere nulla agli altri comuni io penso di poter asserire che Ribera in quanto ad agricoltura non è seconda a nessuno si è passato prima di un tentativo della soppressione dell'ex condotta agraria oggi ha un ridimensionamento dell'ex condotta agraria che diventa da intercomunale a comunale quindi i comuni esempio Calamoneci ho fatto un esempio Calamoneci dista da Ribera meno di 3 km le persone i coltivatori diretti da Calamoneci a Ribera possono scendere a piedi o in bicicletta secondo questo nuovo progetto regionale devono fare 40 km in andata 40 km in ritorno perché devono recarsi niente poco di meno che a Bivona ora io mi rendo conto che a Bivona probabilmente è baciata dalla fortuna o perché probabilmente qualcuno protegge oltremodo Bivona ritengo però che il governo della regione dovrebbe mettere da parte qualche capriccio di qualche parlamentare regionale e fare invece dei provvedimenti oggettivi che vanno nella direzione di dare dei servizi ai cittadini senta lei si riferisce al parlamentare sindaco di Bivona Giovanni Pannepinto quindi questa è una decisione legata esclusivamente a logiche politiche ma guardi che logica spedire le persone di Calamoneci e Luccasicola piuttosto che a Ribera a pochi minuti a pochi chilometri spedirli a Bivona io a questo interrogativo non so rispondere sicuramente non è la logica di ridurre i servizi di ridurre i costi perché rimane Bivona e teoricamente rimane anche Ribera così come rimane Sciacca e rimangono altre sedi ma quale logica appartiene a un provvedimento della regione di mandare tutte queste persone per strada con il rischio anche della loro incolumità fisica oltre che la perdita di tempo oltre che devono perdere delle giornate intere perché devono recarsi a Bivona guardi sono di quei provvedimenti incomprensibili che nessuno sta capendo so che c'è una levata di scudi anche da parte dei sindaci di Calamoneci di Lucca di Villafranca Sicola di Burgio insomma dei comuni interessati perché le persone che saranno distrattate più delle altre sono proprio gli abitanti di questi comuni da parte sua il sindaco di Ribera annuncia battaglia la volontà di porre con forza la questione ritenuta ingiusta del ridimensionamento dell'ufficio dell'ex condotta agraria in qualsiasi sede lo farà già domani pomeriggio in occasione del vertice in prefettura sui problemi del costo dell'acqua domani pomeriggio alle ore 17 seppur per un altro tema legato al consorzio di bonifica la vicenda caroacqua noi abbiamo un incontro in prefettura con l'assessore Cracolici non è all'ordine del giorno ma non posso sottacere nel ribadire invece questa nuova problematica che cade come un fulmine un accessereno sull'intero comprensorio a sostenere la battaglia del sindaco oggi il gruppo consigliare Ribera che denuncia l'ennesimo tentativo di privare la città del ruolo guida nell'agricoltura del comprensorio sacrificando persino gli agricoltori dei comuni vicini costretti a recarsi ora a Bivona consiglieri di maggioranza che chiedono che il provvedimento dell'aggiunta Crocetta venga immediatamente ritirato e che vengano rispettati i parametri reali che vedono la città delle Arance dopo avere un ruolo guida in agricoltura la guardia di finanza di Agrigento celebra oggi il 242esimo anniversario della fondazione del corpo e l'occasione servita a stilare un bilancio dell'attività svolta in questo ultimo anno ce ne occupiamo in questo servizio nella sede del comando provinciale la guardia di finanza di Agrigento ha celebrato questa mattina il 242esimo anniversario della fondazione del corpo che in questo scenario di crisi economica istituzionale continua ad avere un ruolo decisivo nel recupero delle somme sottratte ai bilanci pubblici la lotta allo sperpero di risorse pubbliche alla criminalità economico-finanziaria e l'evasione se da un lato assume il ruolo di strumento privilegiato teso a rilanciare lo sviluppo del paese dall'altro costituisce la strada obbligatoria per ripristinare le condizioni di legalità sulle quali si fonde il patto sociale tra Stato e cittadini complessivamente da gennaio a maggio i reparti della provincia di Agrigento hanno proseguito gli sforzi nelle tre fondamentali macro aree operative ossia l'attività di tutela delle uscite dai bilanci pubblici il contrasto ai patrimoni criminali e illeciti e quella più tradizionale di tutela delle entrate eseguendo complessivamente 763 interventi in particolare per quel che riguarda la lotta all'evasione fiscale spiccano da un lato l'individuazione di 17 soggetti totalmente sconosciuti al fisco e dall'altro la segnalazione alle procure della Repubblica competenti di 8 responsabili di reati fiscali assieme alla scoperta di 21 lavoratori irregolari o in nero presso le ditte controllate l'attività ispettiva in materia fiscale ha portato complessivamente alla segnalazione all'agenzia delle entrate di una base imponibile di oltre 20 milioni di euro sul fronte della tutela della spesa pubblica numeri conseguiti dalle fiamme gialle nella provincia di Agrigento si riferiscono ai contributi che a vario titolo l'Unione Europea lo Stato e gli enti locali erogano a sostegno delle imprese e dei cittadini in questo settore sono state scoperte frodi per quasi 1 milione e 200 mila euro con la denuncia di 28 persone in particolare le frodi contestate riguardano l'illecita richiesta di finanziamenti comunitari a carico dei fondi strutturali e delle politiche agricole e assistenziali nei confronti della criminalità organizzata in via preventiva sono stati svolti 278 controlli mentre in chiave investigativa e repressiva sono stati eseguiti 7 accertamenti patrimoniali ed una confisca di beni per un valore di quasi 20 milioni di euro allicata attività che non ha impedito alla Guardia di Finanza di Agrigento di occuparsi anche del contrasto alla cosiddetta criminalità comune e in questo ambito spicca l'arresto di una persona appartenente ad un'associazione criminale operante nel settore economico del gioco elettronico a distanza online poi le azioni di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze superfacenti o dei furti di rame alla lotta alla contraffazione alla tutela del made in italy con oltre 3.400 prodotti sequestrati fiamme gialle che sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina hanno operato poi assieme alle altre forze dell'ordine in particolare a Lampedusa nel corso della cerimonia di questa mattina sono stati premiati 10 militari che si sono distinti per i servizi svolti Piazza Carmine sarà chiusa dalle 17 un agente della Polizia Municipale presiderà l'ingresso ai residenti a quanti devono raggiungere i parcheggi e questa è la soluzione adottata dall'amministrazione per il secondo fine settimana di ZTL che prenderà il via domani con l'obiettivo di evitare il caos delle automobili in corso Vittoria Emanuele a causa della chiusura di discesa Campidoglio sentiamo secondo fine settimana quello che prende il via da domani di ZTL in centro storico ma con alcuni correttivi e in effetti dopo i risultati del primo weekend non certo esaltanti a causa dei lavori lungo discesa Campidoglio l'amministrazione comunale ha dovuto fare il punto della situazione con il comandante della Polizia Municipale Francesco Calia e apportare delle modifiche alle precedenti disposizioni i divieti di sosta nelle vie traffico limitato inizieranno dalle 17 e all'ingresso di Piazza Carmine in prossimità di Porta San Salvatore sarà collocata una transenna presidiata da un agente della Polizia Municipale l'ingresso sarà consentito solo ai residenti e solo a chi è diretto ai parcheggi fino ad esaurimento dei posti disponibili in Piazza Mariano Rossi e in via Eleonora d'Aragona L'obiettivo è quello di evitare che le automobili scendano giù fino ai parcheggi sotto Piazza Scandaliato e poi non trovandone percorrano la salita a Campidoglio fino a Corso Vittorio Emanuele entrando di fatto all'interno di quella che dovrebbe essere la zona traffico limitato e lo scorso fine settimana è stato praticamente il caos si vuole dunque evitare di bissare l'esperienza non certo piacevole di gente a passeggio costretta a fare gincana tra le automobili cosa che fanno notare alcuni telespettatori e la nostra redazione avviene non certo di rado anche senza il problema di discesa a Campidoglio chiusa per i lavori di messa in sicurezza sotto accusa in questo caso ci sono quanti pur essendo residenti e quindi autorizzati attraversano la ZTL con le strade spesso occupate dai tavoli dei locali di ristorazione e la gente che mentre sta cenando deve inalare il gas di scarico delle automobili che ZTL è quella in cui poi comunque sono diverse le automobili che vengono lasciate passare a tutte le ore a chiederselo sono diversi saccenzi che lo scorso anno hanno raccolto le lamentele di molti turisti è giusto il caso di ricordare l'appello più volte fatto del primo cittadino Fabrizio Di Paola a lasciare la macchina a caso negli appositi parcheggi a saccenzi residenti e non per vivere al meglio a piedi il centro storico tornando ad appropriarsi gli spazi comuni tutto dipende da noi afferma il sindaco dal comportamento virtuoso di ogni singolo cittadino da domani dunque al via il secondo fine settimana di ZTL prima dello stop di questo primo step vale a dire weekend in concomitanza con la saga del mare in cui la ZTL sarà sospesa il centro storico resterà chiuso fino alla mezzanotte in questa prima fase e come detto solo nei fini settimana dal 17 luglio al 30 agosto ZTL invece tutti i giorni dalle 18.30 a luna è ormai tutto pronto per il via letterando in fest conferenza stampa di presentazione stamattina durante cui si è parlato di tutti gli eventi in programma tra le novità la sezione le storie di città che ospiterà gli scrittori Stefano Malatesta Paola Caridi e Roberto Alaimo l'obiettivo da sette anni a questa parte è sempre quello di promuovere la cultura sciacca abbracciando più generi e più persone possibili afferma i nostri microfoni sino caracappa della Vertigo per noi Calogero Parla Piano un susseguirsi di presentazioni reading mostre spettacoli incontri proiezioni convegni workshop dibattiti e masterclass il letterando in feste 2016 da domani fino al 26 giugno sarà tutto questo e molto di più il festival dove la letteratura diventa l'anello di congiunzione tra il territorio e nuove vecchie forme di conoscenza oggi conferenza stampa di presentazione per illustrare tutti gli eventi in programma tra cui la sezione le storie di città il cine letterando ed un interessante convegno dal titolo immigrati quando clandestini eravamo noi l'obiettivo è sempre quello di continuare a rendere più partecipe possibile il pubblico che diventa protagonista quest'anno ne abbiamo dato ne daremo ampiamente prova perché il pubblico dei lettori è protagonista di una grande giuria popolare ma soprattutto ripeto sono più di 100 le persone che in tre giorni si alterneranno a parlare a leggere a raccontare il loro pensiero attraverso i libri attraverso tante altre iniziative ci sarà anche spazio per il cinema in attesa dello sciacca film fest letterando in feste è anche una manifestazione di cinema nel senso che saranno proposti una serie di lavori che sono estratti da opere letterarie quindi a pieno dito rientrano nella manifestazione il cinema c'è sempre nelle nostre manifestazioni partiremo stasera con un'opera bellissima è la storia di Trambo che è stato uno sceneggiatore importantissimo nell'America che in pieno periodo di maccartismo è stato praticamente accusato di mandare dei messaggi subliminali comunisti all'interno di quelli che erano i film e questa è una storia molto singolare particolare perché racconta di come una nazione può avere paura di una penna di uno scrittore e devo dire ci piace raccontarlo perché in tempi così drammatici devo dire pensare che ancora l'arte possa fare paura devo dire è una cosa che incoraggia a farla ecco come dire l'arte è testimone di diversità l'arte è testimone di ispirazione di grandi ideali di grandi problematiche di attenzioni particolari quindi ci piace sottolineare questo tipo di personaggi ecco possiamo rivolgere un invito a chiunque volesse venire a trascorrere questi tre giorni alla Badia Grande l'invito è esteso a tutti anche perché noi abbiamo tante di quelle manifestazioni che ognuno potrà ritrovare il suo spazio si parlerà di teatro ne parleremo in maniera molto comica si parlerà di Shakespeare in inglese ma se ne parlerà in maniera molto popolare quindi l'approccio con tutti i personaggi sarà un approccio facile ma di testa non ne vogliamo né dare né trasmettere vogliamo trasmettere un divertimento intelligente ecco e là ci lavoriamo Esami di Stato seconda prova scritta per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori dopo l'elaborato di italiano di ieri oggi i ragazzi sono stati chiamati ad occuparsi di una materia differente per ogni tipo di indirizzo al liceo scientifico prova di matematica al liceo classico versione di greco negli istituti tecnici e in quelli professionali prove di finanza marketing agraria turismo e informatica ce ne parla Francesca Ciaccia è tratto dall'opera Paneggirico di Isocrate il brano che gli studenti del liceo classico sono stati chiamati a tradurre dal greco all'italiano per la seconda prova degli esami di maturità il calcolo del volume di un recipiente geometria probabilità e funzioni matematiche per i ragazzi dello scientifico tracce di economia aziendale scienza e cultura dell'alimentazione progettazione elettronica ed elettrotecnica per gli studenti degli altri istituti continuano così gli esami per i ragazzi dell'ultimo anno delle superiori che da ieri sono impegnati nelle prove scritte oggi sono stati messi alla prova su una delle materie principali del proprio piano di studi lunedì 27 dovranno poi affrontare il quizone finale su diverse discipline di indirizzo prima degli orali ieri la prima prova quella di italiano si è svolta senza troppi problemi le tracce scelte dal ministero a quanto pare non hanno spiazzato gli studenti la scelta di Umberto Eco per esempio era prevedibile visto la sua recente scomparsa a febbraio nonostante questo il saggio breve su un brano estrapolato dal nome della rosa non è stato molto gettonato perché purtroppo si sa che per l'enorme mole di lavoro gli insegnanti di italiano spesso non riescono a presentare gli autori moderni che hanno scritto dopo Pirandello gettonato per le ragazze invece il tema storico sul suffraggio universale anche questa è una traccia quasi scontata poiché ricorre quest'anno il settantesimo anniversario del riconoscimento del voto alle donne in molti hanno poi preferito cimentarsi nella trattazione dei saggi breve sul rapporto padre figlio sul valore del paesaggio e sul concetto di prodotto interno l'orto gli esami di stato comunque non coinvolgono soltanto gli studenti anche gli insegnanti alcuni di essi ricoprendo il loro ruolo altri nella veste di commissari e presidenti a tal proposito anche quest'anno si è verificato un fenomeno che si ripresenta puntualmente da tempo la rinuncia degli incarichi fino alla prima mattinata di ieri l'equipe dell'ufficio scolastico provinciale ha dovuto rincorrere i vari professori per surrogare le oltre 50 rinunce nell'agrigentino di presidenti di commissione e commissari esterni verrà inaugurata sabato mattina alle 11 la sede dei ceramisti di Sciacca in uno dei locali al piano terra del complesso di San Domenico la sede chiusa da anni era diventata un deposito è stata ripulita e ristrutturata e da sabato tornerà ad essere un luogo espositivo della ceramica artistica aperto al pubblico ma anche punto di incontro dei maestri ceramisti di Sciacca con questa notizia finisce il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi fino a qui tutti gli aggiornamenti puntuali nelle prossime edizioni buon pomeriggio grazie per la visione